Prima dell'inizio della prima partita del Belinzona Rockets abbiamo il piacere di avere un esponente del Belinzona Calcio, il portiere, si presenti? Alessandro Jacobucci, ciao a tutti. Senti, è inizio di campionato in cui la tua squadra sembra che giochi abbastanza bene ma i risultati fanno un po' fatica ad arrivare. I risultati arriveranno, stiamo lavorando bene, siamo la strada giusta e penso che molto presto arriveranno i risultati anche alla prima vittoria. Cosa manca a questa squadra per cercare di portare a casa qualche risultato che creerà un po' di entusiasmo anche per voi e i vostri tifosi? Secondo me sul lavoro ci siamo, sullo stare in campo ci siamo, manca solo un po' di fortuna perché creiamo tanto però non riusciamo a finalizzare le occasioni. Col tempo arriverà anche quello, il campionato è lungo. L'ultima cosa, qual è un po' l'obiettivo del Belinzona a inizio stagione? In questo momento fare un ottimo campionato, salvarci e poi vedere quello che succede a fine anno. Vi ringraziamo in bocca al lupo e speriamo che la prossima volta che ci vediamo si vede una porta in volata perché come minimo è un parecchio. Speriamo, grazie, ciao.